Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come rispalmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e metti un bel like a questo video. La vediamo all'interno di questo video tutorial. Possiamo andare a fare nella sezione della visura planimetrica l'invio di un nuovo documento oppure la ricerca di una visura planimetrica esistente. Quindi anche se è un servizio di consultazione per verificare la pianta di un'unità immobiliare quindi per esempio di un appartamento la ricerca va e vasa in questa sezione. Anche qua dobbiamo inserire tutti i dati necessari quindi da chi è stato ricevuto l'incarico professionale chi è l'intestatario dell'immobile di cui andiamo a fare la visura e i dati relativi all'immobile. messo identificativo dell'immobile cliccheremo su aggiungi immobile cliccheremo su avanti e inoltreremo la nostra richiesta per visualizzare la planimetria. All'inserimento dei dati ci apparirà l'immobile inserito lo andremo a selezionare e cliccheremo su avanti. fare il ripielogo della richiesta della planimetria e clicchiamo su scarica. La planimetria è in formato in questo caso XML. Per firmare digitalmente il documento inseriamo la chiavetta per la firma nel computer e aspettiamo che si apra il suo relativo menu. avviamo il programma per la firma digitale e trasciniamo il file sulla firma. Aspettiamo che il software faccia i suoi ragionamenti. Attenzione perché nel caso specifico della planimetria il sister si aspetterà un file non con questa estensione ma con l'estensione P7M quindi assicurati se anche nel tuo caso è selezionabile che ci sia questa estensione. inseriamo il codice PIN quindi io inserisco il mio codice PIN e concludo la firma. Accetto la dichiarazione clicco su ok ed ecco che è stato completato e clicco su finish. Ecco che il mio file firmato come vedi ha l'estensione P7M a questo punto posso chiudere la chiavetta la estrarrò come una normale chiavetta e mi reco nuovamente sul sito dell'agenzia delle entrate sul sister alla sezione visura planimetrica. Questa volta, mentre prima qui abbiamo ricercato la planimetria da questa parte qua andremo a fare l'invio di un nuovo documento. andiamo a selezionare il file ed è questo qua con la sigla P7M confermiamo giusto la chiameremo planimetria mi sono dimenticata di scrivere il nome ricarico il file quindi sempre quello punto P7M confermo ok e mi appare il fatto che la mia planimetria è stata inviata se voglio andare nel dettaglio dell'invio posso andare a verificare che il mio documento è stato inviato ci vuole qualche minuto affinché la pratica venga evasa è veramente insomma poca cosa quindi se anche dovessi normalmente possiamo fare aggiorna e viene aggiornato per verificare lo stato della pratica risulta ancora come vedi in elaborazione se per qualunque motivo dovessi uscire dal dal sister come accedi di nuovo a questa parte qua sempre alla sezione presentazione documenti sempre alla sezione visura planimetrica ecco qua puoi andare a fare una ricerca per data o per codice di invio clicchi su avanti e appare la tua pratica ecco che in questo caso è stata già evasa la pratica quello che ci interessa a noi non è tanto il documento inviato o la ricevuta di trasmissione ma chiaramente il file quindi vado a scaricare il nuovo file da qua il file che è stato generato eccolo qua la richiesta come vedi è stata acquisita ma la planimetria non è ancora disponibile solitamente ci vuole qualche minuto insomma non è chissà che cosa nell'arco di 20 minuti insomma di 10 minuti dovresti tranquillamente averla riaggiorniamo la pagina ecco la richiesta è stata finalmente evasa sono passati veramente pochissimi minuti 3 minuti, 4 minuti non di più andiamo all'interno del dettaglio della pratica e come vedi adesso c'è la mia planimetria scaricabile quindi posso scaricarla in pdf e la vado ad aprire ed eccola qua la planimetria che io avevo richiesto se ti è piaciuto questo video troverai sicuramente interessante l'intera raccolta che ho fatto di video gratuiti sull'accadastamento e quindi sul software docfa se quindi vuoi vedere tutti gli altri video non devi fare altro che iscriverti e mettendo la tua migliore email al link che trovi qui sotto c'è un form da compilare e fai attenzione ad inserire la tua email correttamente perché via email riceverai il link per accedere alla pagina esclusiva in cui ho conservato per te tutti i video riguardanti l'accadastamento ti aspetto quindi all'interno della raccolta e ti do appuntamento al prossimo video ciao!